andiamo? andiamo di qua oh porco arrivederci bec amici e bentornati in un nuovo video sul mio canale siete pronti ad immergervi in questo video horror di oggi 31 ottobre io non sono pronto eh dove siamo spawnati? madonna fa già paura così i comandi li so devo dirvelo effettivamente ci ho già provato un attimo no? 1,2,3 batterie più videocamera allora dove devo andare? videocamera con C e questo c'è anche la visione notturna? ok a posto bene cosa devo trovare? torcia? per favore grazie dunque qua non c'è niente allora proviamo questo andare da qualche altra parte perché devo trovare delle cose ah c'è un'altra stanza vediamo di qua cosa c'è abbiamo una chiave è un pezzo di carta i cercatori hanno fallito a trovare una cura ah quindi c'è c'è una malattia quindi che malattia si tratta? andiamo di qua bisogna notturna vediamo quella bisogna notturna non serve quello è la torcia forse forse dipende state buone porte sbarrate ok madonna questo chi sei tu? chi sei tu? c'è un selfie? no niente selfie allora qua cosa abbiamo? una batteria ottimo boh we have been teaching ok hanno cercato di insegnare allo staff medico qualcosa sulla 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 malattia ma a quanto pare non ci sono riusciti molto molto bene eh bene ma qua non c'è più nient'altro quindi dobbiamo andare da qualche altra parte insieme notturna e espalmiamo le pile uh le macchinette oh datemi qualcosa niente non si può fare niente alle macchinette va bene no c'è tanto buio andiamo andiamo di qua oh porco oh oh maronna mia che spavento assurdo mamma mia che spavento assurdo porca vacca allora di qua che ci abbiamo? una radio? stai zitto non si capisce niente take off ma i pazienti infetti sono diventati aggressivi verso il personale medico dobbiamo trarre una cura penso che dica molto in fretta allora e qua non c'è più nulla bene possiamo andare via possiamo andare via non c'è niente altro vero? no dai allora come si faceva così? no c'è niente c'è nessuno oh non fate venire i colpi eh allora qua cosa c'è qua? non c'è nulla? allora un po' di striscia ce l'ho eh dai insomma vediamo 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 cosa per fare madonna cosa c'abbiamo qua? questa roba un lavandino di maronna che schifo maronna che schifo ma c'è buio che schifo è madonna che schifo ok ho caricata c'è niente qua c'è niente qua andiamo no ci sono notturna cercano di giostrarcela nel migliore dei modi allora insergo una chiave bene qua non si può andare ok ci siamo già stati di qua ah ecco qua la chiave vedi non è che sono peripassato allora dai meno male uscita grazie dove bisogna andare? bisogna andare di qua recupera la stamina dai guarda cercarei di fare il meno tagli possibile perché voglio potrei proprio ambientarvi in allora oh ah c'è stato proprio un cambio netto di inquadratura ok c'è nessuno? si può buccare dentro? oh salono quanto è bello lei somiglia a un personaggio che già conosco ah qui che ci abbiamo? chi sono questi? ma quanto siete brutti? quanto è brutto quello? quanto possono essere brutti? qua che dice qua? niente che mi serva siete veramente molto brutti eh sappiatelo io ve lo dico io vi ho avvisato siete brutti signor io accendo le luci nel caso nel dubbio non è che c'è qualcosa che mi può servire magari un po' nascosto un po' così solo un po' di sangue niente di che va bene allora di qua il rumore che fate è chiusa a posto salve buon uomo allora di qua? ci sono già stati di qua? ah non si può tornare a posto batterie come siamo messi? non ne abbiamo ok a posto riusci a continuare a usare un po' la visione notturna giusto per quella visione notturna si può cosa mi manca da visitare ancora? ah mica ma ce l'avevo qua e chi la vedeva? cavoli e chi la vedeva la chiave? mi dice che andiamo andiamo di qua con i jumpscare ci aspettano allora ho paura eh ho tanta paura signori andiamo di qua andiamo di qua cosa c'è di qua? oh mi si addirizzano i buffi guardi guardi qua ci sono venuto maronna oh che spavento incredibile oh questo gioco è incredibile oh mi fa venire accendi accendi va qua che c'è un'altra torcia un'altra torcia un'altra batteria meno male è un'altra chiave ah c'è scritto qua today investigatori sono entrati gli investigatori attenzione hanno cominciato a investigare chiaramente cosa chiaramente è stato trovato attenzione carichiamo la torcia che abbiamo ben due batterie quello la conosciamo già qua non abbiamo niente questi cassetti non si possono aprire andiamo va in questa altra stanza e abbiamo qua dei pesciatori ma niente che ci possa interessare io la controllatina ce la darei niente va bene maledetto figlio di tua madre qua si può andare di qua dove si va allora lo ammetto mi scappa la pipì eh me la sto facendo sotto effettivamente me la sto facendo sotto qua telecamere di sorveglianza ah ci sono telecamere di sorveglianza e sono qua ah eccola qua infatti non capisco niente siamo vicino all'esterno praticamente di qua dove si va ho una paura incredibile non credo che riuscira a finire il gioco di qua una chiave che bello di qua e abbiamo invece niente scatola una bella batteria e un pezzo di carta si insomma i detective stanno cercando persone che lì diceva ma che cacchio state fare qua un casino insomma stanno ancora cercando cercando ancora cercando batterie cose abbiamo già preso tutte necessarie carichiamo e ci abbiamo al massimo allora di qua siamo già stati di qua si allora non mi serve la luce oh ok che cacchio è oh non sono pazzo avete sentito anche voi camminare non sono pazzo oh 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 mannaia che spavento incredibile che spavento incredibile attenzione accendiamo la torcia va ho due batterie alla grande e i detective hanno chiesto hanno fatto domande tutte le cose mediche cose strane ogni persona che lavora qui fa domande le stesse domande hanno they are trying to get niente non finiscono nemmeno le frasi va bene qua ci sono delle scale ci andremo nelle scale c'è una cosa che mi serve no e allora andiamo va recuperiamo la stanima la stanima stamina si dice allora mi serve una chiave ho dimenticato una chiave a posto allora la ricarichiamo sotto scala vediamo un po' dove è questa chiave che mi manca dove l'avevo mai lasciata è stupido come sono sbarrato come sono l'ho lasciata sotto gli occhi magari qua non c'è niente un medic kit oh attenzione c'è un medic che non lo posso prendere perché non lo posso prendere pure spazio nell'inventario ma siamo pazzi siamo però io sento camminare comunque e mi serve ancora quella chiave per di là mi serve attenzione io devo andare di qua non si può andare non si può andare meno male allora mi serve una chiave mi serve non è che magari qua no mi viene da andare di qua io non sono troppo pronto per questo ma siamo fuori che tempo orribile vedete qualcosa allora vediamo un po' che cosa c'è signori vogliete qualcosa io non vedo niente allora che c'è qua non è dubbio la porta è là ma un tizio quello oh sono qua amico aiutami oh sembra che forse ti voglio amico aiutami devi aiutare voglio scappare a questo posto infame dai per favore per favore amico mio aiutami per favore amico signore l'unica persona che vedo oltre a quei mostri maniaci scusi aiuto aiuto corri 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 aiuto possibile che sia già stanco questo macchiappa questo macchiappa che musica c'è e corre pure oh non ti avvicinare troppo eh signore tu sei un poliziotto mi dovresti aiutare stupido idiota mi corri sì o no no ho sbagliato mi sta chiappando dove è la porta dove è la porta assolita mi corre lo stronzo qua non corre eh vaffanculo vai corri su quanto mi potrei ancora inseguire oh ma pensate a questo ma non mi corre sto per morire sto per morire corri corri ho un hp sono morto sono sono morto però sono ancora qua bene 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 signori allora non c'è nessuno a me serve ancora la la chiave per quella porta dove devo andare cioè non ditemi che devo prendere la chiave da quest'izio là che sinceramente non ho voglia eh non ho voglia di dipendermi da tutto davvero cioè rompo le palle altamente non sape proprio come affrontarlo siamo sicuri che non ci sia un'altra via eh se voleva salire non si può salire abbiamo capito che di là c'è il nostro amico là diciamo un giro allora a sto punto dov'è è sempre là la mappa di qua non si può andare sono blocchi invisibili che non mi ci fanno andare sono finita la mappa proprio siamo al limite della mappa quindi vediamo un po' il da farsi magari c'è una chiave qua dispersa lo sta patugliando mi rincontro mi uccide mentre lo vedi rincontro che palle che sei tra l'erbetta non vedo assolutamente niente quello sta patugliando questa zona qua vuoi vedere che c'è qualcosa di nascosto che io non so ma che è sta roba che è oh mio dio la chiave corri mi ha visto incredibile corri 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 cerca di salvare più stamina che puoi dove sei infame di merda ah assolita cerchi di risparmiare più stamina possibile anche se è difficile questo corre un infame di scavolo salire scale poi eh questo la camminata è veloce è un atleta è un atleta dei mondiali maronna mia mi fai un senso schifoso dov'è la porta dov'è la porta ci siamo quasi oh quanti siete dove sei figlio infame dove sono le scale c'era un medikit da qualche parte me lo ricordo assolutamente chiudi la porta penso io ho preso il medikit in qualche modo l'ho preso non si stanche mai di inseguirmi dai che sto per morire ma ce l'ho ancora la chiave vero non ho più niente allora signori io per oggi vi dico basta ho già preso abbastanza jumpscare abbastanza tutto io mi invito ad iscrivervi al canale seguite altri episodi lasciate un mi piace soprattutto se proprio volete proprio questo gioco qua ancora quindi commentate iscrivetevi mettete un mi piace fate tutte queste belle cose e nasci vediamo ad un prossimo video sperando che la registrazione sia venuta bene io vi saluto ciao ciao ciao